Vorrei fare questa bellissima serata e condividere con voi questo momento di gioia, di festa, di solidarietà. Sì, in effetti, nel corso della stagione, in diverse occasioni, ci siamo resi disponibili per portare una ventata di solidarietà, di amicizia alle persone che hanno bisogno. Quindi questa cosa si fa molto piacere, complimenti a tutti quanti voi che siete sempre molto bravi a organizzare eventi del genere. Come numero di presenti quasi quasi facciamo anche schelotto, anche lui solitamente... Ma non penso perché se chiede il numero uno vedo che veramente c'è un cuore grandissimo, la generosità che mette in campo la domenica e la medesima che mette per queste iniziative durante le settimane. Lorenzo, anche per lui, la targa...